Il bello di questo progetto è che ha un forte impatto sociale, si tratta di un campo da basket, un'opera quindi viva, che viene calpestata, tra virgolette, e viene vissuta. Per concepire sempre e ogni volta un concept diverso e vincente, bisogna studiare, c'è poco da fare. E poi bisogna divertirsi nel farlo, perché si diventa poi un compito noioso. Il concept del progetto di Rimini è nato studiando i simboli della città, quali il ponte di Tiberio, l'arco di Augusto, la ruota panoramica, e anche simbolici rispetto al contesto naturale che ci circonda, quindi il mare.